Cosa farete dopo? Passerete la dietro e botterete la fiducia, perché siete sotto ricatto, se no Renzi caccia il Fano e voi non siete più nulla. Questo è il ricatto che vi fa svendere il diritto alla famiglia e la nostra cultura di base, che noi difendiamo. Perché è vero, Presidente, che Parigi vale bene una messa, ma qui per voi la coscienza e la viltà sono esattamente la stessa cosa. Vergognatevi! E' scritto a parlare il Senatore Davigo. Vi prego di levare lo striscione, che non è necessario, visto la chiarezza degli argomenti, prego i commessi di provvedere anche per i cartelli. Va bene.